In questa edizione del DNews, la Sicilia non può pagare il prezzo più alto e l'emergenza in migrazione, ci deve essere una equa distribuzione di migranti in Italia e in Europa, ad affermarlo e il ministro dell'Interno, Angelina Alfano, ieri a Catania per presiedere un vertice sulla sicurezza. I carabinieri arrestano quattro persone per omicidio e associazione mafiosa. Sequestrati alla Guardia di Finanza e Tennea, 14.000 capi contraffatti prodotti in un laboratorio cinese abilmente occultato all'interno di un magazzino. Le spiagge libere della Playa sono completamente abbandonate, a denunciarlo il capogruppo di Grande Catania, Giuseppe Castiglione. Ritorna all'evento motoristico più atteso dell'anno. Expo Car 2015, diciannovesimo salone dell'auto e della moto di Catania. Al centro fieristico Etna Fiere Etna Polis, dal 15 al 17 maggio. Auto, moto, caravan, quad, card, accessori, servizi. Prima selezione nazionale di Miss Motors, Ferrari F12 e tanto altro. Expo Car 2015, il momento giusto per cambiare la tua auto e moto alle migliori offerte fiera. Vi aspettiamo venerdì 17.21, sabato e domenica 10.21. È un appuntamento Vodafone, by Cobra e BlockShaft. Organizzazione Euro20, Catania. Entra da Mondo Ragazzi e troverai tante idee per rendere felice il tuo bambino. Mondo Ragazzi è il mondo dei piccoli, abbigliamento e calzature da 0 a 16 anni con i marchi più prestigiosi. Da Mondo Ragazzi corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanze dei giochi. Mondo Ragazzi, amici di infanzia. A Catania in via Pola 19, ad Agrigento in via Tenea 22, a Sciacca in via Licata 95 e a Giarra in Corsitalia 168. Le cooperative sono società che fondano la loro unicità sul principio mutualistico, il quale permette di usufruire di importanti sgravi fiscali e agevolazioni finanziarie. CESICOP è il centro servizi interprovinciali di confe cooperative, a supporto delle cooperative del territorio, fornendo servizi di consulenza contabile, fiscale e del lavoro, progettazione fondi europei e accesso al credito. Particolari agevolazioni per il 2015 alle cooperative in a start-up sui servizi offerti. CESICOP sostiene la cooperazione autentica con professionalità. A Catania, in corso Sicilia 24. Prima l'Europa dimostri di essere aperta e solidale, perché fin qui abbiamo fatto tutto da soli e abbiamo avuto il primo segno della presenza dell'Europa con l'operazione Tritone di Frontex. Adesso l'Europa dimostri di essere veramente con la coscienza scossa e con gli occhi aperti. Noi abbiamo colto il segnale della presenza delle navi europee con l'operazione Tritone. Adesso prima di chiedere altre cose l'Europa sia solidale sia dal punto di vista economico che dal punto di vista dell'accoglienza. Noi abbiamo una bussola che è quella dell'equa distribuzione in Europa e abbiamo l'altra bussola che è quella dell'equa distribuzione in Italia. Noi dobbiamo distribuire i migranti equamente tra i paesi europei e saremo credibili solo se avremmo avuto già noi la forza di distribuirli equamente sul territorio nazionale. La Sicilia non può subire l'ingiustizia di accogliere il 90% degli sbarchi e anche il 20% oltre il 20% da sola dell'accoglienza. Gli sbarchi non ce li può evitare nessuno se non si risolve la crisi libica perché noi siamo davanti alla Libia l'accoglienza va fatta in modo equo in tutte le regioni italiane. Con queste parole il ministro dell'interno Angelino Alfano ieri a Catania per presiedere in prefettura un vertice sulla sicurezza ha affrontato il tema dell'immigrazione. La Sicilia assume su di sé il peso degli sbarchi perché è la Sicilia ed è in mezzo al mar Mediterraneo e di fronte alla Libia. Questo compito non possiamo delegarlo ad altri perché a questo compito siamo delegati dalla geografia. Ma l'accoglienza, cioè il dove vengono destinati quelli che sbarcano è un problema di equità e di giustizia e quindi noi abbiamo fatto nello scorso luglio 2014 un accordo con le regioni e anche con i comuni per un'equa distribuzione su tutto il territorio nazionale. La scorsa settimana ho incontrato i rappresentanti dei comuni e delle regioni e sono fiducioso che quest'equa distribuzione trovi attuazione in tempi molto rapido. Il ministro ha poi affrontato la questione libica che sta alla base di questi continui viaggi della speranza che portano decine di migliaia di migranti nelle nostre terre. L'Italia ha subito prima l'azione della comunità internazionale che ha prodotto gli effetti su Gheddafi, io non intendo ovviamente difendere Gheddafi ma ha prodotto il rovesciamento del regime di Gheddafi e quindi l'Italia ha subito l'azione della comunità internazionale. Ora sta subendo l'inerzia della comunità internazionale. Noi non possiamo pagare sempre il conto. Una volta il conto dell'azione è dopo il conto dell'inerzia della comunità internazionale. Quindi noi abbiamo sostenuto e sosteniamo il tentativo di mediazione di Bernardino Leon per arrivare a un governo di unità nazionale in Libia ma mentre questo tentativo va avanti occorre fermare i trafficanti di esseri umani. L'una non esclude l'altra cosa. Sul legame fra viaggio e la speranza e terrorismo però ancora non ci sono prove certe così come ha affermato Alfano. Noi sul tema terrorismo abbiamo sempre un'allerta molto alta. Il nostro sistema di prevenzione è sempre all'opera. Vi sono riunioni settimanali del Comitato Analisi Strategica Antiterrorismo che mette insieme tutte le forze delle nostre divise per avere tutte le informazioni che derivano anche dallo scambio con gli altri paesi, dallo scambio di informazioni con gli altri paesi. Il nostro livello di allerta è molto alto per quanto riguarda i migranti. Non abbiamo ancora un rilievo, non c'è una prova di organizzazione, non ci sono prove che ci siano dei terroristi infiltrati tra i migranti. al tempo stesso nessuno può escluderlo e quindi il nostro livello di allerta rimane altissimo. Noi lavoriamo e vorrei sottolinearlo molto in connessione con l'azione della magistratura. Noi ringraziamo molto la magistratura per il lavoro che compie anche da questo punto di vista e trovandoci a Catania ringrazio davvero la magistratura catanese per tutto il lavoro che ha fatto. Mi riferisco al sequestro delle navi madre, mi riferisco al lavoro che ha fatto anche nelle ultime vicende che hanno riguardato l'immigrazione e dunque noi pensiamo che la forza dello Stato anche in questa occasione possa assolutamente mostrarsi per quella che è, cioè la forza di un paese grande, democratico che mette tutto il proprio peso nel contrasto ai trafficanti di esseri umani. Maria Giovanna Salvo e Santo Strano, entrambi di Catania, sono stati arrestati questa mattina alle prime luci dell'alba dai carabinieri del comando provinciale di Enna, unitamente colleghi del comando provinciale di Catania. I due sono indagati per l'omicidio avvenuto il 23 maggio 2012 di Leonardo Prospero e il contestuale tentato omicidio ai danni di Drago Angelo e per aver diretto è organizzato un'associazione mafiosa costituita ed operante a Catena Nuova collegata al clan Cappello, in tempi diversi tra il 2010 e il 2012. Insieme a loro sono stati indagati Matteo Salvo, anche egli di Catania, e Nunzio di Marco di Regalbuto per la cosiddetta strage di Catena Nuova del 15 luglio 2008, ossia per l'omicidio di Presti Filippo Cirimbolo Salvatore, il tentato omicidio di Presti Filippo Cirimbolo Maurizio e l'afferimento di cinque persone di cui una in modo grave, avvenuto il 15 luglio 2008, nonché per aver fatto parte l'associazione mafiosa costituita ed operante a Catena Nuova collegata al clan Cappello. Il provvedimento costituisce un ulteriore sviluppo delle indagini, diretta alla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta ed affidata al nucleo investigativo del comando provinciale i carabinieri di Enna, che avevano portato all'operazione Fiume Vecchio il 23 maggio del 2011, all'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Gian Piero Salvo e di Filippo Passalacqua per la strage di Catena Nuova, in relazione alla quale è in corso il processo a Caltanissetta, all'operazione Gogarta il febbraio 2014, tutt'eventi come oggetto l'attività delle associazioni criminali che si sono contese il territorio di Catena Nuova e dei centri limitrofi tra il 2007 e il 2014. Con questa operazione si completa il quadro delle responsabilità per la strage di Catena Nuova. Si è accertato che la spedizione che portò all'uccisione di Presti Filippo Cirimbolo Salvatore, con metodi doni a suscitare clamore da soggettamento nel paese, come a voler dare un esempio, sia mediante l'utilizzo di un non-fucile automatico Kalashnikov. Nei presti di un bar affollato nel centro del paese era diretta a punire non solo l'ucciso ma anche il fratello di questi ed alcuni personaggi di un non-paese limitrofo, ai quali Presti Filippo Cirimbolo si erano rivolti per avere aiuto contro i Catanesi e che il sabato precedente all'omicidio avevano addirittura minacciato gli esponenti al clan Cappello, ai quali fino a pochi mesi prima Presti Filippo Cirimbolo Salvatore e i suoi solidali dovevano rendere conto. L'uccisione di Leonardo Prospero e l'efferimento di Drago Angelo sono emersi come la reazione all'attentativo di Costoro di riconquistare per conto di Cosa Nostra di Enna il paese di Catena Nuova controllato in quel periodo da Santo Strano e da Giovanna Salvo. Prospero Leonardo, prima di essere ucciso, aveva preso contatti con esponenti mafiosi di altri centri, aveva avvistato alcune persone sottoposte al pizzo e la sua nuova leadership e aveva intimato gli esponenti del gruppo avverso di ritirarsi e di lasciare alla sua organizzazione il controllo del territorio, confidando in un appoggio alle famiglie di Cosa Nostra catanesi che invece non si concretizzò. L'urgenza e il provvedimento è scaturita dall'esigenza di operare prima di dover rendere nota la circostanza che dichiarazioni auto ed etero accusatorie sono state rese nei giorni scorsi da uno degli imputati per la strage di Catena Nuova per il quale era programmato l'esame davanti la corte di Assise di Galtanissetta proprio per la giornata odierna. Infatti sono emersi preoccupanti segnali di possibili rappresaglie diretta a colpire un figlio minore di questo indagato affidato alla stessa Salvo Giovanna nel caso di una qualsiasi collaborazione con la giustizia da parte è lo stesso. Un ulteriore soggetto colpito dallo stesso provvedimento restrittivo non è stato ancora rintracciato e viene attivamente ricercato. Un'operazione denominata Ferro, connota in collaborazione dalla criminal polizia tedesca e dai carabinieri di Gela nel Nisseno, ha portato all'arresto di 10 persone tra Germania, Oland e Italia. È stata così smantellata un'organizzazione di italiani residenti in Germania che, con un complesso di società fittizia, evaso fisco e cassella previdenza sociale tedesca, producendo fatture false per molteplici ditte impegnate nell'edilizia. L'organizzazione ha provocato in circa quattro anni un danno erariale per 17 milioni di euro. Sono sette gli arresti in Germania, due in Italia, uno in Olanda, oltre a perquisizioni e sequestri di beni per milioni di euro. Oltre due arrestate in Italia, arresti avvenuti a Niscemi nel Nisseo e in forza di un mandato europeo, sono state effettuate perquisizioni e nonché sequestri di beni e conti correnti i soggetti organici all'organizzazione. Oltre 14 mila capi di abbiamento contraffatti sono stati sequestrati dai militari al comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania, nell'ambito dei servizi volti alla repressione della contraffazione alla tutela del Made in Italy. Un imprenditore cinese è stato denunciato all'autorità giudiziaria. L'operazione sviluppata dai finanzieri al gruppo di Catania ha consentito di individuare nel centro storico del capologo Ettenneo un vero e proprio centro di stoccaggio di distribuzione di merci di provenienza cinese, realizzato all'interno di un grande esercizio commerciale di oltre 1000 metri quadrati, condotto regolarmente in affitto da un imprenditore sinico. Durante il controllo è stato accertato che il titolare aveva ricavato all'interno dell'esercizio commerciale, celato tra le scaffalature della merce, un in un locale occulto destinato allo stoccaggio e l'abbigliamento contraffatto e falso Made in Italy, utilizzato per consentire prevalentemente ad ambulanti di origine extracomunitaria la selezione e la successiva ordinazione dei prodotti destinati alla piccola distribuzione del falso. La situazione rilevata dei finanziari ha lasciato presagire quindi che si trattasse di fatto di un sistema organizzato di distribuzione all'ingrosso di abbigliamento contraffatto e in effetti le successive operazioni di perquisizione eseguite sul deposito hanno consentito di rimedire l'intero carico di merce destinato alla distribuzione del capoluogo etneo. Pantaloni, tute, magliette riportanti marchi alle migliori griffe nazionali ad essere, quali Barberi, Lacoste, Blauer, Moncler, Dolce e Gabbana, Ralph Lauren, fedelmente riprodotti nonché migliaia di capi riproducenti immagini e segni distintivi italiani, tali da ingannare il consumatore sulla provenienza e origine della merce, di fatto risultate interamente cinese. Al fine di eludere i sempre maggiori controlli sulla merce di importazione dalla Cina, era stato adottato un ulteriore stratagemma finalizzato a rendere a prima vista completamente anonima la merce contraffatta, in particolare i colli contenenti i capi di abbigliamento erano stati appositamente predisposti in maniera tale che il capo contraffatto si trovasse opportunatamente confezionato e occultato tra altri del tutto regolari. Per completare il perfetto confezionamento e la merce inoltre non potevano mancare oltre 10.000 etichette contraffatte che occultate in un noncunicolo ricavato nel sottotetto dell'attività commerciale rappresentavano il tagliando di qualità da apporre sui prodotti. Lo stesso sistema era utilizzato per l'abbigliamento falso made in Italy che è completo di etichette con la scritta Italia e con la riproduzione della bandiera tricolore e le realtà di riproduzione esclusivamente orientale. Al termine dell'ispezione, la titolare dell'esercizio commerciale è stata denunciata alla Procura della Repubblica del Capologo Ettenneo per i reati di contraffazione, frodo in commercio e ricettazione. L'immissione sul mercato e la successiva vendita dei prodotti sequestrati avrebbe consentito di realizzare ricavi stimati in 80.000 euro, nonché di rifornire tanti venditori ambulanti presenti su Catania, in particolare di Corso Sicilia e provincia. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Comando Provinciale di Catania, coi ispettori del lavoro civile e su impulso del direttore territoriale del lavoro, mantengono alta la vigilanza in città, continuando a scoprire irregolarità contrattuali e lavoro nero. Gli ultimi controlli sono stati indirizzati al settore del commercio e dell'edilizia. In particolare i carabinieri hanno controllato 11 ditte e verificando 30 posizioni lavorativi hanno scoperto 3 lavoratori in nero su 8 presenti in due diverse società, per cui una è stata adottata la sospensione dell'attività imprenditoriale, 2 in nero su 2 presenti, ed ancora 4 lavoratori regolari nelle altre aziende controllate, contestate sanzioni amministrative per 19.600 euro, combinate 7 ammende per 14.288 euro e recuperati contributi e premi assistenziali per 51.758 euro. Controllando i cantiere d'Ile, in un primo a Catania si è rilevato l'omesso allestimento dei parapetti di sicurezza lungo alcune scale fisse in murature. In un secondo a Sant'Aga degli Battiati è stato contestato all'imprenditore di avere depositato materiali su impalcature impedendo ai lavoratori i movimenti e le manovre necessarie, causando così un pericolo per l'incolumità stessa degli operai. In un terzo cantiere d'Ile a Mister Bianco si è verificato che l'imprenditore aveva omesso la periodica visita medica ai dipendenti. Tutte e tre gli imprenditori sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Inoltre i militari hanno accertato in quattro delle ditte ispezionate l'illecito utilizzo di impianti di videosorveglianza senza accordo sindacale e senza l'autorizzazione della direzione territoriale del lavoro, in violazione dello statuto dei lavoratori. Per queste ragioni gli imprenditori, titolari di un call center, una società di ristorazione, un negozio di abbigliamento o un centro scommesse, sono stati denunciati all'autorità giudiziaria. Contratti a norma del contratto nazionale del lavoro di categoria, salubrità dei luoghi di lavoro, assenza di pericoli nei cantieri, questi gli obiettivi cui i carabinieri per la tutela del lavoro tendono con il loro lavoro continuo e costante, nella certezza che la massima divulgazione del proprio operato contribuisca a migliorare sempre più l'osservanza della legge. I controlli, dicono i carabinieri, proseguiranno nei prossimi giorni. Dal 25 al 29 maggio gli autotrasportatori scenderanno in strada per protestare contro la sordità del governo nazionale e la superficialità dell'esecutivo regionale, indisponibile ad incontrare gli operatori del trasporto in profonda difficoltà a causa del crollo del viadotto Imera, che ha di fatto tagliato la Sicilia in due. Pretendiamo risposte e sostegno da parte delle istituzioni. Gli autotrasportatori sono costretti a sforzi economici importanti per attraversare la Sicilia. Alcune aziende hanno perso le commesse, poiché non in grado di rispettare i termini contrattuali dovuti ai maggiori tempi di percorrenza. Non ci basso le assicurazioni al ministro del Rio, senza l'annullamento dei pedaggi sulla Catania Messina e sulla Messina Palermo, come dichiara Giovanni Agrillo, presidente della sezione siciliana della Federazione Autotrasportatori Italiani. Occorrono importanti incentivi sulla tostra del mare e su quelle ferrate. Le nostre fragili aziende chiuderanno prima dell'apertura dei cantieri del nuovo viadotto se continua questa situazione. Pretendiamo risposte da Roma e da Palermo e non ci fermeremo finché non le otterremo, conclude il rappresentante della Federazione. La chiusura del pronto soccorso di Giarre sta creando non pochi problemi. Innanzitutto la cittadinanza perché deve usufruire del pronto soccorso di Ascireale o di Taormina. Queste loro volta sono piene e poi c'è il problema del 118. Turni estenuanti per i lavoratori e problemi anche come collocare chi ha difficoltà a Giarre. Sì, sta succedendo che dopo la chiusura del pronto soccorso di Giarre che la Will FPL con il segretario Stefano Passarello qualche giorno fa abbiamo denunciato che la chiusura di questo pronto soccorso avrebbe regato notevoli disagi agli altri due pronto soccorsi più vicini, parliamo di Ascireale e di Taormina, nonché all'utenza. Oggi dobbiamo registrare anche un problema che si sta creando al sistema dell'emergenza perché tutti i mezzi di soccorso che prima erano dirottati su Giarre adesso vengono smistati sugli pronto soccorsi di Taormina e di Ascireale che con un incremento chiaramente dell'utenza derivante dalla chiusura di Giarre sostano nei pronto soccorsi fino a 4, 5, 6 ore. Questo comporta chiaramente un indebolimento della rete dell'emergenza, soprattutto in ottica della stagione estiva perché l'itorale ionico, quindi tutta la zona che va da Cireale fino ad arrivare a Giardini, chiaramente ci sarà un incremento della popolazione. In più il personale che chiaramente presta servizio sulle ambulanze si ritrova a non poter smontare e quindi a fare dei turni massacranti. Questo significa non dare un servizio adeguato alla cittadinanza. Presentate qualche settimana fa, le strisce rosa a Catania sono state accolte con entusiasmo dalle donne incinte e dalle neomamme che possono approfittare di questa opportunità per parcheggiare vicino ai posti più importanti, quali ospedali ed ASP. Facendo un sopralluogo questa mattina abbiamo notato come si stia rispettando quanto chiesto all'amministrazione comunale ossia di non parcheggiare se non si appartiene alla categoria per cui le strisce rosa sono state pensate. Questo perché siamo nella città dove parcheggiare nei posti e i disabili, davanti le scivole in doppia fila è routine e consuetudine di molti che pur di non fare 10 metri a piedi bloccano il traffico e creano disagi. Le strisce rosa dunque per adesso, ma andiamo cauti nel dare un giudizio finale, sono lasciate libere. Adesso tocca all'amministrazione potenziarla, intanto mamme e future mamme possono ritirare il passo al comando dei vigili urbani per certificare che possono davvero usufruire di quel posto. La stagione estiva è ormai alle porte, già fa caldo, a diversi giorni sono tanti i catanesi che vorrebbero cercare un po' di refrigerio al mare sia per un magno ma anche per prendere un po' di sole. Facendo un sopralluogo però nelle spiagge libere e della playa, in tutte le spiagge libere, quello che si nota è un non totale abbandono, degrado, rifiuti e assenza a questo punto, come denunciate voi di Grande Catania, anche dell'amministrazione. Ma credo che già l'anno scorso l'amministrazione era assente per le spiagge libere e quest'anno pensavo, dato che l'anno scorso avevano sbagliato, quest'anno aprivano le spiagge libere, quindi i cittadini e i catanesi potevano andare a mare, già a inizi di maggio. Purtroppo facendo dei sopralluoghi, io insieme a tutto il gruppo consigliare di Grande Catania, abbiamo visto che la sabbia è sporca, le docce non esistono, i bagni non ci sono e la struttura è fatiscente. Io mi rivolgo all'amministrazione e chiedo che in tempi celeri e brevi aprono le nostre spiagge libere, perché noi catanesi vorremmo andare al mare e il mare è di tutti. Tra l'altro voi proponete un non vi alle Kennedy che possa essere sfruttato, utilizzato e usufruito dai cittadini tutto l'anno, perché con la nostra temperatura, con il nostro clima è assurdo che si lavori solo tre mesi l'anno, sarebbe importante anche per l'economia della città. L'amministrazione parla di turismo e di sviluppo, vorrei ricordare che abbiamo una zona industriale che ci sono le strade distrutte e lo scerbamento non viene mai fatto. Pensavamo che la Playa, e crediamo che la Playa sia il volano di sviluppo per l'economia, purtroppo questa amministrazione ancora una volta è assente e quindi se in tempi brevi loro non apriranno le nostre spiagge libere e i nostri concittadini andremo a mare, noi sicuramente faremo un'altra conferenza stampa nelle nostre spiagge libere. I cittadini della zona lamentano poi anche una scarsa illuminazione, o sia estate o sia inverno, quando si percorre il Viale Kennedy solo i primi metri sono illuminati, il resto è completamente al buio? No, il problema è che non c'è illuminazione, non c'è sicurezza, non c'è niente, quindi non è possibile. I cittadini fanno bene a lamentarsi, ma purtroppo ancora fino a oggi non si sta risolvendo nulla, perché ritengo e ripeto, a mare ci vogliamo andare tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.